Le ditte incaricate dal comune rimuovono le lamiere dalle case e dal cortile della scuola elementare. Un centinaio bambini che frequentano questo istituto, inagibile perché privo di buona parte della copertura strappata dalla furia del vento. Ora la sfida è riparare il tetto entro il suono della prima campanella tra meno di un mese. Stasera stanzieremo con variazione di bilancio d'urgenza un centomila euro per rifare la copertura, impermeabilizzare e quindi stiamo lavorando veramente per riuscire a garantire l'avvio dell'anno scolastico in piena sicurezza. Lunedì sera verso le dieci una tromba d'aria ha seminato attimi di paura tra queste case. Fortissimo vento, noi ci siamo riparati in casa praticamente nel punto più sicuro della casa. A un certo punto abbiamo sentito due rumori molto sinistri, rumori che non avevamo mai sentito. Era tutto buio perché la corrente era stata tolta e con la luce dei fulmini dei lampi abbiamo notato delle chiazze bianche sulla proprietà, sul giardino e ho immaginato subito che fosse la scuola. Il tetto infatti era caduto praticamente ovunque. Il fortissimo vento, dopo aver causato il cedimento della grondaia sul cornicione, ha potuto infilarsi fra gli strati di materiale della copertura, guaina, polistirolo e lamiera e come una potente leva ne ha provocato il repentino distaccamento. Se i pezzi di polistirolo sono volati ovunque, anche a centinaia di metri, la parte in lamiera, frammentata in quattro grandi fogli, sospinta dalle raffiche, è andata a scagliarsi sulle abitazioni confinanti. Qui le lamiere, dopo aver sfondato il tetto del ricovero attrezzi, si sono cartocciate sul terrazzino di questa casa, sventrando la tapparella ed incuneandosi per due metri all'interno dalla stanza, fortunatamente adibita a ripostiglio e quindi senza persone all'interno. Nell'abitazione adiacente le lamiere sono prima rimbalzate sulla rete dell'orto per poi andare a posarsi in parte sul muro e in parte sulla recensione esterna. Ci sono danni materiali, è arrivato appunto, si è incastrato addirittura nelle case vicine, però ecco non ci sono danni a persone e questo è l'importante. Nel comune i danni ammontano in tutto a circa 200.000 euro, colpiti anche gli impianti sportivi e il parco di Villa Lattes, dove la fuglia del vento ha spezzato diversi rami e le secolari cedri e addirittura ha battuto una parte del muro di cinta. Non bastava la gestione dell'emergenza, diciamo Covid, a volte arrivano proprio anche questi eventi così estremi che ci prendono, dico di sorpresa, ma ormai non più tanto e che veramente ci mettono sotto pressione.